Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Soleil muore mentre è in vacanza in Albania, malore fatale. Ecco cosa è successo. Una tragica notizia è stata diffusa nelle scorse ore. Soleil è morta mentre si trovava in vacanza in Albania. È morta tra le braccia dei genitori. Purtroppo per lei un malore è stato fatale. Soleil, una bambina di un anno e mezzo, è morta tra le braccia dei genitori. La bambina si trovava in vacanza in Albania. I genitori erano risultati positivi al virus, come riporta Lego.it. La comunità di Centobuchi, provincia di Ascoli Piceno, è stotto shock, colpita dalla morte della piccola Soleil Andolfi di soli 19 mesi. La piccola è morta per un malore. La famiglia della bimba aveva contratto il virus in vacanza e in seguito Soleil aveva iniziato a stare male, ma non è chiaro se anche lei fosse positiva. Quando è peggiorata è stata trasportata in ospedale dove purtroppo è morta. Le analisi e gli esami stabiliranno le cause del decesso. La bimba è morta davanti agli occhi dei genitori Lorinda e Alessandro.